La montagna toscana spende 200 milioni di euro all'anno per interventi sul territorio e per l'orogazione dei servizi che si traducono in quasi 120 milioni di pagamenti reali e riesce a mantenere lo stesso livello di servizi rispetto al 2011 nonostante dal 2008 ad oggi a causa dei tagli abbia ricevuto dallo Stato 25 milioni di euro in meno. Sono i dati forniti dall'UNCEM Toscana nel corso del Consiglio di Delegazione riunitosi a Firenze per la chiusura del bilancio consultivo del 2011 e l'esame della bozza del bilancio preventivo per il 2012. La riunione alla quale hanno preso parte oltre al presidente di UNCEM Toscana Oreste Giurlani, il presidente nazionale Enrico Borghi e l'assessore all'agricoltura della regione toscana Gianni Salvadori è servita anche per fare il punto sulle criticità che riguardano ancora la montagna. È logico che per continuarla ci vuole di avere regole certe perché non è possibile avere il patto di stabilità, non è possibile avere i blocchi delle assunzioni o avere in continuazione uno che si alza la mattina e vuole fondere o unire i comuni. Noi dobbiamo dare certezza all'istituzione e poi, come si dice, lasciateci lavorare tenendo conto che la montagna però ha bisogno di risorse specifiche perché lavorare e vivere in montagna costa mediamente il 30% in più. Questi risultati sono stati raggiunti in un anno di grandi cambiamenti per la montagna toscana che prima in Italia è passata dalle comunità montane alle unioni dei comuni e che in questo farà da modello per le comunità montane del resto del paese che però hanno bisogno di una normativa nazionale chiara. Abbiamo bisogno che ci sia un quadro di legislazione nazionale assolutamente coerente soprattutto in considerazione degli aspetti connessi con le politiche di investimento stiamo lavorando intensamente per il periodo di programmazione 2014-2020 che consentirà di avere fondi europei per le zone montane e le zone rurali per poter utilizzare queste risorse però abbiamo bisogno di istituzioni che siano presidiate in maniera coerente.